Ben ritrovati, festa delle opere 2021. L'evento realizzato dalla compagnia delle opere Marchesud è quest'anno incentrato su una frase di Guareschi. Ne parla il direttore della CDO Marchesud, Massimiliano Di Paolo. La frase che abbiamo scelto, la frase di Guareschi, parla proprio di salvare il seme. Nel dialogo che Don Camillo ha con il crocifisso, dopo l'alluvione, gli viene detto bisogna salvare il seme. Questo è un messaggio che vogliamo lanciare, vogliamo lanciare in occasione della nostra festa delle opere 2021 e lo facciamo attraverso delle testimonianze, delle storie di persone che hanno cercato di salvare il seme e comunque di costruire qualcosa dopo l'alluvione che possiamo considerare la pandemia. Quindi interverranno dei ragazzi giovani che hanno fatto una nuova azienda oppure anche qui una giovane eccellenza che è tornata dall'estero e ha deciso di aprire un'azienda in Italia. E poi incontreremo alcune eccellenze marchigiane, imprenditori che nonostante la pandemia hanno continuato a investire e oggi hanno preso grandi appalti nel mondo oppure hanno realizzato innovazioni importanti per il nostro territorio e quindi per tutta la nostra comunità. Quindi l'idea è che noi dobbiamo salvare il seme, vuol dire che dobbiamo costruire, dobbiamo ricostruire attraverso il dialogo, dobbiamo ricostruire attraverso l'incontro anche con le diversità che incontriamo, questo è il messaggio che vogliamo lanciare con questa festa delle opere. Grazie Grazie Grazie